In un precedente video ti avevo accennato alle due nuove fotocamere che erano entrate a fra parte del mio studio ed oggi ti andrò a parlare nello specifico della Fuji X-E4 Alla fine cercavo una macchina compatta, facile da portare in giro, pronta all'uso per fare degli scatti veloci Per questo motivo volevo una fotocamera da utilizzare esclusivamente in JPEG quindi doveva darmi un buon JPEG e la Fuji si sa funziona molto bene da questo punto di vista ma te ne parlerò anche dopo E altro aspetto molto importante per me è avere un autofocus efficiente Quello degli smartphone funziona bene ma non mi piace e allo stesso tempo io avevo già avuto una X-E2 mi pare e non mi soddisfava quindi volevo l'autofocus della X-T4 e questa fotocamera ha tutte queste caratteristiche portabilità di buoni JPEG e mi permette anche di avere un ottimo autofocus ma adesso ti farò vedere con qualche scatto comunque te lo garantisco utilizzandola che l'autofocus va molto bene Ho ovviamente valutato anche altre fotocamere ma sono stato propenso verso la X-E4 anche perché avevo già avuto una Fuji, avevo avuto la X-T1, la prima della serie X-T quindi conoscevo l'ambiente Fuji, conoscevo come funzionava l'X-Trans e soprattutto avevo già conosciuto i suoi profili JPEG fantastici questi profili colore che ti permettevano di ottenere delle fatte buone fin dall'inizio Ammetto anche di aver valutato per un po' l'elico GR3, GR3X ma non mi hanno convinto, non mi hanno convinto per via dell'autofocus non mi sembra così performante o comunque vicino alla pari a quello della serie X-T4, X-E4 di Fuji e poi quella cosa di non avere l'obiettivo intercambiabile un po' mi metteva paura perché dovevo scegliere una focale ed era quella su APS-C invece qui posso cambiare l'obiettivo nel caso in cui questa focale non mi vada bene e poi cercavo appunto quelle funzionalità della X-T4, processore, sensore autofocus dello stesso tipo qualcuno mi ha chiesto ma non potrei valutare la X-S10 che alla fine è uguale a questa sì però non mi piaceva il form factor, ha delle dimensioni un po' più grandi invece io volevo una cosa così da portarmi in giro e poter utilizzare per fare veramente degli scatti al volo averla proprio a portata di mano, molto leggera e portatile l'ho utilizzato da un mese circa, ce l'ho sempre dietro e già questa è una vittoria tutto sommato cercavo una macchina da avere sempre dietro e così è scatto sempre in JPEG, prevalentemente con profilo Classic Chrome del quale sono rimasto affascinato ancora dalla X-T1 anche se ce ne sono altri due che mi piacciono un sacco l'obiettivo 27mm, 40mm su full frame è un compromesso interessante per un mix di fotografia street, fotoricordo e qualche paesaggio stretto a differenza però del Ricoh GR ci posso cambiare l'obiettivo quindi sono curioso di provare in futuro l'XF 18mm F2R la risoluzione del sensore 24 megapixel che è presente sulla X-E4 come sulla X-T4 è un ottimo compromesso per una qualità di immagini adeguate ai tempi ma mantenendo allo stesso tempo un peso accettabile dei file specie nel formato JPEG parlando di grip, questa qui ha un grip pessimo, sembra una Leica ma non ha nulla a che vedere con una Leica ma io ho risolto in un modo molto semplice dotandola di questo supporto per il pollice che mi permette di utilizzarla con una mano sola in modo molto molto semplice se poi andiamo a vedere quello che riguarda l'autonomia delle batterie ho sentito tanti criticare l'autonomia, tant'è che io mi ero già preso un'altra batteria aggiuntiva nella realtà non la utilizzo mai, per quello che faccio io va benissimo una batteria sola faccio la mia sessione fotografica, ricarico ed è già a posto parlando di sensore X-Trans, bene è un sensore un po' particolare però ha dei vantaggi, i vantaggi stando nel fatto che non soffre del rumore cromatico ha solo il rumore luminoso e questo ti permette con questa X-E4, X-T4 anche che sono fotocamere con sensore APS-C di generare sia un rumore quando vai ad aumentare gli ISO ma comunque un rumore gestibile piacevole anche da certi punti di vista che non degrada tanto l'immagine, a differenza magari della Canon EOS R5 che ha un sensore tradizionale e qui c'è un altro vantaggio la X-T4, X-E4 sono dotate di sensore BSI, quindi Backside Illuminated che ti permette di avere una resa migliore ad alti ISO ad esempio questa qui è una resa molto buona anche al confronto con la mia Canon EOS R5 perché ha un sensore C full frame più grande ma un sensore di vecchia generazione quindi soffre un pochino gli alti ISO è veramente molto interessante questa cosa e ti darà veramente tante soddisfazioni anche utilizzandola ad alti ISO poi altra cosa che mi piace molto questo sistema a ghiere spesso c'è quello introdotto su questo 27 mm VR che praticamente ti permette anche di bloccarlo eccolo qui sulla posizione A è veramente strepitoso come metodo mi piace questo sistema a ghiere perché è molto semplice all'inizio può far prendere paura ma poi regolare il diaframma, i tempi e tutto è veramente una sciocchezza è ben pensata, ha una buona logica e funziona molto molto bene mi sono anche chiesto se magari questa camera potevo dotarla ad un obiettivo estremamente grandangolare per poi avere veramente un kit da fotografia di paesaggio estremamente compatto e portatile nella realtà io l'ho adottata, ho fatto la prova con il 10-24 f4 che andrebbe a sostituire un 14-35 su full frame parlando di Canon e non ci sta, non ci sta ci sarà un video dedicato dove ti faccio vedere quell'obiettivo te ne parlerò e te lo farò vedere su questa cam come si comporta la resa è ovviamente buona la cam si comporta bene ma è tutta la combo che non ci sta è estremamente sbilanciato è un'ottica da XT4 serie XT è lì dove dà il meglio di sé una fotocamerina compatta di questo tipo secondo me dà il meglio di sé con questi obiettivi Pancake con il 27 con il 18 perché veramente ce l'hai in mano vedo un qualcosa che mi interessa vado lì e faccio la foto veramente in un secondo appena vedo qualcosa faccio lo scatto e riesco ad ottenere magari un ottimo risultato sicuramente con una resa estremamente buona se mi chiedi un consiglio su questa fotocamera posso dirti che è un ottimo prodotto scordati la solidità degli autofocus Sony e Canon ma non ti darà grossi grattacapi almeno io non li ho sentiti come tali nonostante l'abbia utilizzata per molto tempo abbia fatto tante tante foto il punto di forza della X4 secondo me sta nelle dimensioni rapportate alla qualità costruttiva di materiali utilizzati all'efficienza dell'autofocus bontà del sensore qualità dei file generati che la rendono veramente una fotocamera portatile da tutti i giorni ma veramente di qualità elevatissima ovviamente sto parlando delle combinazioni con gli obiettivi quelli più compatti il 27mm 2.8 il 18mm f2 non va bene se ci vai a mettere almeno secondo me degli obiettivi più grandi e pesanti si tratta in sostanza di avere per le mani una XT4 ultimo modello di punta in tasca che ci sta in un marsupio e questa è una bella cosa di Fuji perché fa dei modelli molto potenti però fa anche dei modelli con dimensioni form factor differenti ma che hanno lo stesso motore vedi la XE4 appunto che è una XT4 o la XS10 altra fotocamera che eredita il motore della XT4 insomma è una macchina che ti consiglio se cerchi questa tipologia di prodotto per questo video è tutto spero ti sia piaciuto fammelo sapere vai qui sotto nei commenti lasciami il tuo feedback dammi anche la tua esperienza magari perché sei andato verso Fuji magari e parlami anche dei difetti perché è facile parlare dei prezzi ma parlami anche dei difetti che hai riscontrato in Fuji per questo video è tutto noi ci vediamo al prossimo episodio ciao da Alessio Gizzi si botta di culo avevo perso il tappo della Canon del 16mm STM e l'ho trovato a fianco all'automobile probabilmente appena smontato mi era caduto questo è culo veramente a tutti a tutti